La percentuale della pendenza dove abbiamo appoggiato i piedi è molto elevata, siamo esattamente dove qualche anno fa c'è stata la frana nel bosco di Carpenei a Montecchia di Crosara, esattamente tra il rio Albo e la Contratolotti, adesso cercheremo di avanzare per stare il terreno, siamo appena arrivati in cima alla nostra ex frana, siamo in una zona un po' impervia, il lupo ha individuato delle tracce molto visibili e fresche che indicano la presenza di cinghiali, quindi dovremmo essere molto molto vicini a dove loro si nascondono di giorno. Eccoci, ormai abbiamo raggiunto la seconda sequenza, è un ambiente molto particolare, selvaggio e silenzioso, non sembra ma la ripidità di questo sito è molto molto elevata, stiamo raggiungendo la seconda sequenza, eccoci in questo esatto punto, quello che io considero è il punto madre, proprio qui siamo nel punto più alto dove qualche anno fa si staccò un gran pezzo di terra sotto i miei piedi, esattamente lì dove prima siamo risaliti, è lì la pendenza sia per l'ascesa e la discesa si fa molto interessante, non molto semplice. Grazie a tutti!